Iosef Ratzinger, Escatologia, Morte e Vita Eterna Per la Chiesa antica, è significativo che non esisteva alcuna affermazione dottrinale circa l'immortalità dell'anima. Iosef Ratzinger, Escatologia, Morte e Vita Eterna La credenza che l'anima continui a esistere dopo la dissoluzione del corpo, è argomento di speculazione filosofica o teologica, e di conseguenza non è espressamente insegnata in alcun punto della Sacra Scrittura. Chiaramente, la Bibbia non insegna che l'anima sopravviva alla morte del corpo fisico. Pertanto è bene chiedersi, le mie convinzioni si basano sulla Bibbia o sulla filosofia di Platone? Grazie a tutti.